Leonardo Silva Revisore Se chiediamo in giro a chiunque perché viaggi? Perché viaggiare? La risposta più frequente che si dà è per vedere posti nuovi. Quindi per conoscere o scoprire delle realtà visibili, concretamente visibili e quindi delle opere d'arte, dei monumenti, dei paesaggi, delle città. Però quello che vorrei oggi mostrarvi è dimostrarvi il fatto che è possibile, volendo, anche viaggiare e scoprire delle realtà che visibili non sono, delle realtà, appunto, invisibili, che non si vedono o che non si vedono più e che in qualche modo possiamo vedere. Lo faremo soprattutto grazie a degli artisti, nella maggior parte dei casi grazie a degli artisti. Molto spesso l'arte ha giocato col concetto di visibile e invisibile e molto spesso gli artisti hanno provato a farci vedere cose che non è più possibile vedere. sia chiaro che non sto parlando di personaggi che tracciano un quadrato per terra e dicono questa è una scultura invisibile, questo è un drago invisibile in groppa al quale potete vedere una sirena. No, niente. Non sto parlando di arte facilona, non sto parlando di arte con la maiuscola. Siamo nel luogo natale di un grandissimo artista, un grandissimo pittore, Geremia Re, che è l'orgoglio di Leverano e quindi oggi voglio iniziare parlando proprio di arte con la maiuscola, di un grandissimo artista che ha giocato tanto con l'invisibile. Siamo nel mondo del surrealismo. Sapete che i surrealisti pensavano che la vera realtà, la realtà profonda, fosse quella dell'inconscio, non quella che vediamo. Perché quella che noi vediamo viene riordinata in qualche modo, sistemata dal cervello. Mentre invece i surrealisti cercavano di andare a fondo. La realtà profonda era quella che si esprimeva, secondo loro, tramite i sogni o tramite comunque delle visioni. L'artista con cui vorrei aprire questo mio intervento è un grande visionario che ci ha regalato delle grandissime visioni. Pensate che lo chiamavano il tranquillo sabotatore perché lui, con dei quadri che sembravano estremamente realistici, in realtà ci instillava dei dubbi, dei grandissimi dubbi sulla realtà. Sto parlando di René Magritte. E René Magritte, nel quadro che vorrei farvi vedere, in questo qui, si chiama La firma in bianco. Qui lui proprio giocava col visibile e l'invisibile. Vedete, c'è una cavallerizza che attraversa un bosco. Se osservate attentamente vedete che non può essere un quadro realistico. Lo stesso Magritte diceva che in realtà quando un cavallo attraverso un bosco un po' c'è, un po' non c'è, ma noi sappiamo che c'è. In realtà la cavallerizza un po' copre gli alberi e un po' è coperta dagli alberi. Quindi questo è il modo in cui lui giocava con questo concetto. Il concetto appunto di visibile e invisibile. però delle volte è la storia che ci porta invece a confrontarci con l'invisibilità. Ancora oggi, se noi viaggiamo in un posto molto molto lontano, se noi andiamo in Giappone, abbiamo la possibilità di vedere proprio questo. Di vedere un passato invisibile che è rimasto in maniera indelebile. Facciamo un grande viaggio nel tempo, torniamo indietro. Andiamo a Hiroshima. Questa è un'immagine di Hiroshima, una fotografia scattata i primi mesi del 1945. Come vedete c'è una via molto trafficata, negozi, luci. Qui ancora un'altra via, la classica architettura giapponese, la vita quotidiana che va avanti tranquillamente. Come ben sapete, all'inizio del 45, nei primi mesi del 45, la guerra finalmente sta finendo, la Germania si è già arresa, Hitler si è suicidato nel suo bunker di Berlino, l'Italia si è arresa, Mussolini è stato fucilato, ma resta ancora il Giappone. Siamo all'inizio di agosto e il Giappone ancora non si è arreso, anche per un'etica tipicamente giapponese. Il Giappone non si arrende, il Giappone non si arrende fino in fondo. E allora, come ben sapete, gli Stati Uniti decidono di ricorrere alle maniere forti, decisamente. Quindi su una città placida e tranquilla, che sa che c'è la guerra, ma in realtà la guerra si sta svolgendo più nel Pacifico che nel Giappone. Vero e proprio, sulla città di Hiroshima, come ben sapete, viene sganciata il 6 agosto la prima bomba atomica della storia. Fra i morti che muoiono all'istante e i morti che muoiono per le conseguenze dell'atomica, si contano 174.000, forse 180.000 morti solo per questa esplosione. Tre giorni dopo, a Nagasaki, si presenta esattamente la stessa situazione. Nagasaki era così. Questa era una foto della baglia di Nagasaki qualche mese prima che venisse sganciata la bomba. Una città ridente. La baglia di Nagasaki è bellissima. Ed è anche degli edifici, vedete qui la chiesa, anche degli edifici europei, perché Nagasaki era l'unico porto che durante il periodo di assolamento giapponese poteva accettare le navi europee. E oggi, a Nagasaki, qui c'è un grande ponte per entrare nella baglia di Nagasaki. Vedete una città bellissima, in una splendida baglia. Anche lì la vita quotidiana sta andando avanti tranquillamente. Il 9 agosto del 1945, un'esplosione nucleare. Anche qui uccide meno persone. Ma si parla sempre comunque di 80.000 persone, tra persone che vengono bruciate all'istante e persone che poi muoiono per le conseguenze di questa esplosione. La baglia di Nagasaki viene ridotta in cenere. Vedete, rimane la chiesa che vi ho mostrato prima, rimane in piedi alcuni. Alcuni muri della chiesa rimangono in piedi. Il resto è tutto morte e distruzione e desolazione. Cosa succede? L'esplosione atomica, durante la quale si calcola che nell'epicentro si sono raggiunti, pensate, 7.000 gradi, causa quella che viene chiamata l'ombra nucleare. Guardate bene questo edificio. Se vi osservate questo edificio, vedete che qui, è rimasto miracolosamente in piedi dopo l'esplosione, ma qui sono rimaste delle strisce, come se queste sbarre delle finestre avessero appunto fatto un po' da barriera e quindi avessero consentito la creazione di queste ombre nucleari. Ecco, le ombre nucleari si verificano un po' ovunque, sia a Hiroshima che a Nagasaki. Vedete, qui ce n'è un'altra. Qui il metallo ha fatto in qualche modo da scudo, probabilmente perché è lontano, non proprio nell'epicentro, quindi ha resistito, però comunque si è creata quest'ombra nucleare. L'invisibile del nucleare a Hiroshima e Nagasaki, quello che vorrei mostrarvi oggi, è in questa fotografia. Questa fotografia è aggacciante. Adesso vi spiego subito perché. Ve lo spiego dal nome di questo posto. Se voi guardate qui a sinistra, questi sono dei caratteri giapponesi. Si legge così, Ito Kage no Ishi. Ishi vuol dire pietra. Eh, la pietra è questa. No è come un genitivo sassone, come la S inglese, quindi questo sarebbe un complemento di specificazione della pietra. Questa vuol dire ombra, kage, è questo carattere che ha un po' la forma di un essere umano. È proprio il carattere che indica l'essere umano, Ito. Quindi, Ito Kage no Ishi vuol dire l'ombra, scusate, la pietra dell'ombra umana. Quest'ombra qui, che vedete, è l'ombra di una signora che era seduta sui gradini di questa banca, questa era Sumitomo Bank di Hiroshima. Erano le 8 e un quarto quando è esplosa la bomba. Quando la bomba è esplosa, per una frazione di secondo il corpo di questa donna ha creato una sorta di barriera e poi si è completamente carbonizzato. Ma è rimasta l'ombra. Eccola qui. Oggi questi gradini sono stati portati nel Museo della Pace di Hiroshima, un museo dove bisogna assolutamente andare per capire quali sono gli orrori della guerra, ma soprattutto gli errori e gli errori della guerra nucleare. Quindi anche qui vediamo un invisibile. L'invisibile di una donna che c'era e qualche secondo dopo l'esplosione nucleare non c'era più, ma è rimasta. È rimasta appunto su questa pietra. Questa è un'altra immagine di un'altra ombra nucleare. Anche in questo caso si vede un essere umano e una scala. Sono spariti, sono disintegrati, polverizzati, carbonizzati, ma le loro ombre sono rimaste. Quindi in questo caso è stato il fuoco a creare, a farci vedere l'invisibile. C'è un artista italiano contemporaneo che si chiama Claudio Parmigiani che ha usato esattamente la stessa tecnica con il fuoco, la polvere e il fumo. Lui crea la celebrazione dell'assenza, ci fa vedere l'invisibile. Guardate, qui si vede una libreria, si vedono dei libri, ma in realtà sono stati realizzati, i libri non ci sono. Lui realizza queste opere, che lui chiama le delocazioni, proprio gettando della polvere o della cenere o del fuoco e crea l'assenza, ci fa vedere l'assenza. Anche in questo caso ci fa vedere l'invisibile. Questa è una foto scattata nel Maxi a Roma, il Museo dell'Arte del XXI secolo, ma in tantissime occasioni. Claudio Parmigiani ha creato queste delocazioni che sono proprio la celebrazione dell'assenza e del silenzio. E veramente quando voi entrate in una stanza con una di queste delocazioni, veramente vi viene spontaneo tacere. Per una questione di rispetto, vi viene veramente spontaneo tacere e osservare qualcosa che non c'è. e se parliamo di libri che ci sono e non ci sono, non possiamo evitare di andare a Berlino. Bebelplatz. Questa è la piazza che si trova nel quartiere di Mitte, il quartiere storico di Berlino. Questa è la piazza dedicata alla cultura. Guardate, qui a sinistra questo edificio è il Teatro dell'Opera, la Cattedrale di Sant'Edvige. Questa è una delle sedi dell'Università Humboldt. E da questa parte, proprio dove noi siamo in questo momento, c'è l'edificio ancora più grande dell'Università Humboldt. L'Università Humboldt ha regalato all'umanità 57 premi Nobel. Pensate che Hegel, Marx, i fratelli Grimm, Max Weber e tanti altri hanno studiato all'Università di Humboldt. Quindi è la piazza della cultura. Ed è il posto dove nel maggio del 1933 è avvenuto il rogo nazista dei libri. Il ministro per la propaganda, Josef Goebbels, fece un discorso, tende un discorso per infuocare gli animi dei giovani studenti nazisti, dopodiché gli studenti nazisti entrarono nell'Università, presero 20.000 libri e 20.000 libri vennero bruciati al centro di questa piazza. La piazza si chiama Bebelplatz, vedete qui a sinistra, al centro di Bebelplatz oggi per ricordarci questi libri che non ci sono più ma ci sono in realtà. C'è un monumento che io trovo molto toccante dove anche lì viene spontaneo tacere per rispetto. Guardate, per terra ci si cammina sopra, c'è una lastra di vetro e questa lastra di vetro nasconde una stanza sotterranea con degli scaffali vuoti, illuminati ma vuoti. Quindi sono in pratica dei fantasmi di libri, gli spiriti dei libri, dei 20.000 libri che si sono stati immolati sono lì su questi scaffali ancora oggi. È ancora più forte e più toccante questo di notte perché la notte sono illuminati quindi nel buio della piazza brillano questi scaffali vuoti. c'è un altro grande artista che ci ha regalato la possibilità di vedere con l'arte qualcosa che è ormai invisibile. E siamo qui in Puglia, a nord della Puglia vicino a Manfredonia c'è un posto che si chiama Parco archeologico di Siponto. A Siponto fino a pochi anni fa la situazione vista dall'alto era questa. A destra si vede una basilica romanica del XII secolo e qui a sinistra c'erano i resti di una basilica molto più vecchia, molto più antica del VI secolo, una basilica paleocristiana. C'erano soltanto dei resti, un po' di fondamenta, nient'altro. Nel 2016 qui è rinata la basilica paleocristiana grazie a un giovane grandissimo artista che si chiama Edoardo Tresoldi la basilica paleocristiana è totalmente rinata. Eccola qui, la vedete a sinistra. Sembra un po' un ologramma ma è reale, si tocca, ci si può entrare. Di cosa è fatta? È fatta di rete metallica. La rete metallica ha praticamente ricostruito esattamente come era, esattamente nelle stesse dimensioni, la basilica paleocristiana. E quindi oggi è possibile entrarci e immaginarla. Non è come se l'avessero ricostruita. Se l'avessero ricostruita in pietra sarebbe stata semplicemente una ricostruzione. Questa in rete metallica invece ci dà proprio l'idea dello spirito della Chesa. L'anima della Chesa. Non è un caso che le visite al parco archeologico di Siponto siano aumentate in maniera stratosferica rispetto a prima. Perché prima per comprendere la basilica paleocristiana bisognava studiare prima, prepararsi, saperlo, avere un minimo di preparazione in storia, in storia dell'arte. Oppure una volta arrivati lì leggere approfonditamente i pannelli, cosa che non tutti facciamo. Invece adesso chiunque, anche una persona che non sa niente di storia, di storia dell'arte, può entrare e vivere proprio lo spirito di questa chiesa all'interno. Ripeto, non è come vederla rifatta in pietra. Così con questa rete metallica c'è e non c'è. È veramente come fosse lo spirito della basilica che c'era prima. Questa è l'immagine la sera, la sera ancora più suggestiva, ancora più toccante. Nel pochissimo tempo che mi rimane vorrei portarvi in Sicilia per un ultimo viaggio in un posto dove l'arte ci ha restituito qualcosa che non è più visibile. Torniamo nuovamente indietro nel tempo. 1968, nella notte fra il 14 e il 15 gennaio, un terremoto rade al suolo la cittadina di Gibellina, o Gibidina, come dicevano in dialetto. Siamo in provincia di Trapani, completamente rasa al suolo da questo terremoto. Guardate, queste sono le macerie che sono rimaste di Gibellina. È tremendo vedere questo pianoforte, il pianoforte attorno al quale possiamo immaginare una famiglia che suona, che canta, della gente che festeggia, che fa musica. Così, tra le macerie di questa città completamente distrutta. Gibellina è stata ricostruita a 20 km dal punto in cui si trovava prima, in un punto anche un po' più comodo per le comunicazioni. Le macerie sono rimaste lì. Un sindaco illuminato, si chiamava Ludovico Corrao, ha invitato tanti artisti contemporanei a arricchire la nuova Gibellina. Ma ha invitato anche un artista che si chiamava Alberto Burri. Alberto Burri era stato prigioniero durante la guerra in Texas. Era stato cattuato e portato in Texas. E' rimasto 18 mesi prigioniero. Quindi aveva un po' una dimestichezza con la terra secca, la terra riarsa, la terra argillosa con le spaccature. e creava delle opere, lui giocava molto con la materia, creava questo tipo di opere. Questo lui lo chiamava il Cretto. Questa è una piccola dimensione. Nel momento in cui Burri arriva a Gibellina, vede la città nuova e non è ispirato. Ma quando il sindaco, Ludovico Corrao, lo voglio ripetere perché è un grande nome, quando Ludovico Corrao lo porta nella vecchia Gibellina, Alberto Burri ha una grande idea. Ha l'idea di far rivivere in qualche modo con un Cretto la vecchia Gibellina. Le macerie erano lì abbandonate e non si sapeva cosa farne. Le ha completamente ricoperte di calcio e struzzo e ha creato quello che oggi, ancora oggi, si chiama il Cretto di Burri. Questa, guardate, è il pendio della collina. Era lì che sorgeva Gibellina. Le linee e le vie che vedete al centro non corrispondono esattamente a Gibellina. Corrispondono più che altro a un'idea di Cretto che si era fatta a Alberto Burri. E questo è il posto dove oggi una fondazione, che si chiama la Fondazione Orestia, organizza anche delle rappresentazioni teatrali, organizza anche degli eventi. quindi non è un sacrario, non è un cimitero, anzi è un posto vivo dove è possibile andare, camminare tra le vie e percorrere idealmente questo labirinto, il labirinto del Cretto di Burri, quindi idealmente ritrovarsi nuovamente nella vecchia Gibellina. Questa è stata l'idea di Alberto Burri, criticata, controversa. ognuno può naturalmente vederla come vuole, però non possiamo negare che sembri molto più viva adesso di quando quel pendio della collina era completamente pieno di macerie. Si chiama il Cretto di Burri, si trova in Sicilia ed è l'ennesima dimostrazione di quello che ci diceva il grande pittore tedesco Paul Klee, che affermò l'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Grazie mille. Grazie.